Buon appetito ragazzi, buon appetito di questo video, sono Cicomber24, siamo qui su NBA 2K16 Siamo su MyTeam che sarebbe la corrispondenza più o meno di MyGenero... MyGenero... Ultime Team di FIFA 16, oggi sono qui per farvi vedere un giocatore della Madonna L'ho trovato, pensate, nel pacchetto base che mi ha dato la 2K Un giocatore epico, sa, nelle aste, James Harden 95 di movimento, 84 della media, tiro e movimento dalla media, tiro e fermo dalla media 85 78 di tiro da 3 in movimento, 80 fermo da 3, 94 di controllo palla, 82 di visione di passaggio, 85 di precisione di passaggio 86 di velocità e 86 di accelerazione Sto giocatore Harden, che ovviamente chi conosce la NBA lo conosce per forza Il valore, e chi si intende anche del MyTeam Ne sa qualcosa, ma Harden costa un bordello Un attimo Costo un bordello sul... qua sopra Cioè, guardate... un momento, fatemi cercare tutti Generale, non lo puoi trovare Colore... è ametista... sì ametista Tutti Questo sta 139.000 Questi qua sono diversi, ma addirittura costano di meno Anche se... Anche se siamo là Però ha un... come totale di più 136.000 179.000 121.000 100.000 Raga, una fortuna incredibile Adesso io li metto sul... Li metto come asta Lo vendiamo E al limite farò un pack opening Con i soldi che troveremo grazie a Harden Io veramente Quando l'ho trovato ho fatto un balzo della Madonna Non stavo registrando purtroppo Perché non pensavo che uscissero giocatori così forti Va... veramente una sorpresa della Madonna Io adesso li metto come prezzo iniziale 100 E come compra ora Veramente un... una fortuna incredibile Come compra ora 200.000 A limite faremo dei pack opening Può diventare una serie questa Quella di fare il pack opening su My Team E di fare una serie appunto sul My Team Se avremo fortuna in quest'asta Quindi può essere una rampa di lancio Per questa... per il canale Ecco perché avere successo sul My Team Corrisponde... sul My Team Cazzo sto dicendo Sul My Team Può essere una cosa molto importante per noi Vedete che comunque Dopotutto i pacchetti Normali Costano Però Quelli leggendari del dottore costano 38.000 Questo qua Però erano pacchetti leggendari Diciamo Dove si trovano giocatori forti Ma i pacchetti Ecco qua Questo sarebbe il pacchetto Più alto Sì Questi due E comunque costano 4.000 Ciò significa che possiamo fare un bordello di pack opening E quindi naga Per questo video è tutto Appena riuscirò a vendere Harden Ve lo farò sapere in un video Perché sicuramente Possiamo diventare ricchissimi Su questa cosa E Oddio È una fortuna incredibile Per giunte in un pacchetto Ricompensa E quindi Per questo video è tutto E ci vediamo alla prossima